Ok ragazzi, cominciamo con qualcosa di leggero della 2.2, qualcosa di piccolo piccolo per cominciare La nuova trasformazione, SwingCopter Mmmmm, questo livello guarda, proprio corto, difficoltà giusta, mi può ispirare Giochiamo E però non so se la musica è copyright, dannazione Oh cost, oh, 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 oh Ah dice anche le istruzioni Perfetto, vai Quindi abbiamo anche visto bene come funziona, rifacciamolo Devo cantare perché non so se è copyright, ok basta col cringe SwingCopter cost 2.2, funziona come una palla però la gravità si può cambiare in mezzo all'aria Ma che c... Oh, 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 ho un dubbio, ho un dubbio Facciamo qualcosa di più difficile Vediamo qua Faccio una palla Oh, ma che cos... ah, ho capito come funziona Ehm E' un po' strano Questo livello Ehm Questo è un nero swing copper Cioè ho visto che non funziona così Scusate Proviamo questo Dai Qualcosa di Difficile Dobbiamo provare Oh 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 Non me l'aspettavo Ok non me l'aspettavo Ehm Questo Oh Funzio Così funziona Matti in timing Jower Vai 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 Quindi non è manco difficile da ricreare Vai Molto figo E anche una nuova navicella Mamma mia Oh ancora ancora Swing copters Dobbiamo fare Dai 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 No oh 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 Ma guardate il swing copters master Sarà prontissimo per il 2.2 Vai Vai Facciamo questo No la musica la riconosco Copyright Niente Ma voglio andare con la Qualcosa di più difficile Quindi mettiamo il filtro Oh cosa vedo qua Cosa vedo nei miei occhi Extruller Quindi non dovrebbe essere copyright Ah Oh Ehm No scherzavo Scherzavo Qualcosa altro Questo Questo Oh 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 Ce la faccio Non sono pronto Per la 2.2 Mi rimangio tutto quel che avevo detto prima Oh se No niente Non riesco a bugare il livello Oh 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 si sono pronto Oh si si sono pronto Dai Ah Eh Brother No non sono un maranza Ragazzi Dai sul livello lo devo fare Non sarò così Non sarà così difficile il swing copter Dai Sarà easy Nessuno ha detto che mi arrenda però eh No vabbè basta 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 così Qua cos'è Ah Ehm Ok ho capito Ehm Oh 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 Ah 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 Ma come cacchio Ma come si fa sto livello Dai raga C'è ragazzi Ah 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 Vabbè abbiamo Ci siamo allenati un pochetto Con lo swing copter E Adesso facciamo 2.2 Scritto così Perché non si può mettere il punto Nella ricerca Vediamo Sono curioso Ma scusa Questo sarebbe 2.2 Ecco vedo delle spine Intravedo Di commentare E lasciare like per passare No Ah E va bene Like Commento Qualcosa di trappopio Sub To Not Jewer E Figo Adesso se Tu Non mi fai passare Hai la mamma che Guarda non posso dire invidio Approvato Oh e qua Cos'è Mi da delle stelle Ma proviamo Ah ma forse è già stato giornaliero Su livello No no non c'entra niente Non c'entra niente 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 Però 2.2 concept Vediamo Un blocco Un blocco che non ti uccide La mia idea è un semi blocco Ma non è che c'è già C'è già il semi blocco Ah non questo Ah ho capito Ehm Cosa Posso andarci sopra come Super Mario Ah Interessante Un blocco direzionale C'è Quindi Una sola direzione Wave Ah vedi C'è Non ci posso andare sotto Però questo non ci sarà Nel 2.2 Diciamo che è solo una delle idee Prendi le chiavi Prendi le chiavi Oh però serve Una bella idea E' una figata Si che l'ha già fatto In 2.11 Quindi Diciamo Però E' figo E' figo Sì sì E' E' una bella idea E' una bella idea Lasciate i like Come Come sto facendo io Però Al mio video Adesso per ora ragazzi E' arrivato il momento L'ultimate L'ultimate Level Questo dovrebbe essere Ho visto che è veramente 2.2 Oh Ah Eh 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 Cosa Ok Ok Come fa A ricreare tutto Oddio Ah 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 Giusto Devo premere Perché ci sono delle orb Ah 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 Vabbè poi vedete il camera è quello che abbiamo già visto Aia No aspetta io voglio vedere il multiplayer se ci sarà Ma non credo ci sarà un trigger per il multiplayer Cioè è impossibile Ma come cavole Eh si ho riprenduto Vai Qui Mini Ma sto premendo a tempo dai Perché quel spin non c'era bisogno Il creatore di questo livello Il livello potrebbe essere bello però Perché l'ho visto sui tube si Ok difficile eh devo ammetterlo Ah E queste poi saranno aggiunte A parte il multiplayer che non lo so eh Io non ho visto niente negli sneak peek Aia Aia Cosa devo fare lì Scusate Aia Bro 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 Però il ritmo c'è eh Ma Scusate ma come sono ritornato giù scusa Non sto capendo Ma dove sono passato Ma Quindi lì devo spammare ho capito Però non devo spammare così Aia E poi lì c'è scritto che ogni tanto la practice mode è rotta Non lo so Provi che la 2.2 è rottissima Poi il punto che mi fa morire ancora di più E chi stanza? C'è il mio cane Ma cosa sta? Aaaaaaah Ho già fatto un nuovo record quindi sono felice Però devo dire il livello è anche fatto bene Allora devo memorizzarmi un timing Hope E basta electoral E basta Aaaaaah 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 Lebo Aaaaaah 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 Aaaaaaah Delle orbe normali Deve usare dei pallini Jimmy perché cresce i livelli No il creatore dei suoi livelli in realtà non si chiama Jimmy No dai ce la potevo fare Ce la posso fare Credete in me ragazzi Questo succede quando voi non mi scrivete Vedete Ehi tu Si sto parlando con te Invece che stare lì a ridere e vedermi sclerare Ti voglio informare che domani sera alle 7 Intendo dire sabato sera Sarò in live per la prima volta su Twitch a completare Clubstep Quindi non mancare E come sempre iscriviti Premo troppo presto questo è il mio difetto Premo troppo presto Invece con il resto delle orbe premo giusto Vedete No ho rovinato tutto No mi sono rotto Cerchiamo la modalità auto Perché è veramente Troppo difficile Troppo pagato Solo quel pezzo Questo dovrebbe essere Si Si è questo Perfetto Ok quindi qua Va giù Cioè figuratevi Così devo fare E poi non è le swing copter Che fa così O le spider orb Qua cosa c'era Non lo so Vabbè l'ufo Questo non lo sapevo che era un'aggiunta Vabbè le orbe del trasporto Lo swing copter Che tutti conosciamo Non si sta muovendo bene Perché è auto Il livello Si fa così Andare indietro Ok E' un po' strano La modalità auto Eh però Quindi così Così In diagonale Ci sta un botto Non saprei manco Che Era un'aggiunta Ah poi la telecamera Che si muove Ecco perché c'è Cosa finto Multiplayer C'è veramente Multiplayer Quello online Ma che cazzo Ma Che figo Poi gli altri Muogliono E tu non muori Perché quel che c'è adesso Solo Locale Però Mamma mia Che figo E la monetina Grazie se l'apprezzo Però Però Però